Una straordinaria mostra per celebrare il primo anniversario della rinascita di Villa Argentina a Viareggio. Artefice dell'evento culturale promosso dalla delegazione lucchese del FAI e con il patrocinio del Comune di Viareggio è lo scultore e pittore contemporaneo della Repubblica Ceca Ivan Taimer, tra i più apprezzati e quotati d'Europa. Che cosa si racconta in questa mostra, maestro? Questa mostra parte sul mio monumento che ho fatto per bicintenare la Revoluzione Francese, su Jean de Mars, per diritti dell'uomo. Questi diritti dell'uomo sono sempre una cosa fragilissima, che è sempre in evoluzione e lo vediamo bene che anche la Francia adesso ha sospeso i diritti dell'uomo per la guerra in Libia. Questa mostra è collegata con Acquarelli, con i miei voyaggi che ho fatto nel mondo, che ho fatto tanti monumenti per pigliare l'atmosfera di ogni monumento, perché Acquarelli lascia non semplicemente il disegno, ma lascia anche questa storia dell'atmosfera intorno di un monumento. Maestro, qui vedo anche qualcosa relativo alla Versilia, forse Monteggiori. Sì, c'è Monteggiori dove lavoro, dove sto da tanti anni, dove è successa una cosa molto triste perché hanno tagliato un bosco di cipressi, che era l'anima del villaggio e soprattutto la gente non si rende conto quando si fanno questi interventi brutali che questa strada chi porta a Sant'Ana, dove vedete le cose che si danneggia anche la memoria della gente che è morta in precedenza. Luoghi Altrove, titolo della mostra, è stata pensata per far conoscere la collezione di Acquarelli dell'artista che ha scelto la Versilia dopo essersi emozionato e suggestionato dai marmi delle Apuane. La mostra a Villa Argentina resterà aperta fino al prossimo 3 aprile.